Facciamo un grande applauso al nostro Presidente del Consiglio. Facciamo un grande applauso. Sapere che viene compreso davvero fa tutta la differenza del mondo. Non è stato un anno facile, non è stato sul piano anche di tenuta fisica. Io sono tornata stamattina alle 6 del mattino da un viaggio in Africa, a Monkongo, Mozambico, nello stesso giorno abbiamo fatto più o meno 23 ore d'aereo. Insomma, non è facile, no? Quando si sa che lo si fa rappresentando qualcuno e che viene compreso, vi garantisco, questo ti restituisce tutta l'energia del mondo. Grazie.